Grazie per la visione! Nel 2014 mi sono iscritta a una laurea di Scienze del Turismo alla Fondazione Campus e mi sono fatto tutto il percorso della triennale e proprio il 18 di ottobre, proprio qualche giorno fa, mi sono laureata a Dottoressa in Centro di Turismo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Noi oggi la facciamo soltanto quando effettivamente ci viene chiesta, su questo dobbiamo lavorare sicuramente. Ringraziare l'equipe dei medici e psicologi che oggi ci hanno sostenuto la presentazione a cura della scuola Gellico e a seguire ci avvicineremo alla zona cocktail, non prima di aver sentito anche il coro, Punte a Capo, diretto dal maestro Masini, che vi darà l'occasione anche di riempire quelle buste che io vuole, che vi sono state date all'ingresso per fare una piccola donazione. Grazie mille. Buonasera, non sono Punta a Capo. Buonasera, non sono Punta a Capo 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 Buonasera, non sono Punta a Capo. Buonasera, non sono Punta a Capo. Buonasera, non sono Punta a Capo. Grazie a tutti.